Viviamo in una società con una popolazione che invecchia ed una cronicità in aumento, che anche per la necessità di razionalizzazione delle risorse economiche, intende passare da un'assistenza ospedalocentrica ad una diffusa sul territorio, con la possibilità di seguire da vicino la popolazione senior. Questo è il tema centrale dei lavori svolti al punto insieme sanità, dalla Lab Medicine alla Street Medicine, organizzato da Senior Italia Federanziani, con il coinvolgimento dei referenti delle società medico-scientifiche di FIM, Giosnami, Sumai, dei pediatri e degli ordini delle professioni infermieristiche. I lavori che si sono articolati in sessioni plenarie e tavoli dedicati alle singole aree tematiche sanitarie, cardiologia, dermatologia, diabetologia, oculistica, oncologia, pediatria, pneumologia, reumatologia e urologia, si sono concentrati soprattutto sulla rilevanza del passaggio dalla tradizionale modalità di raccolta dei dati epidemiologici da parte delle società scientifiche a un'epidemiologia real life, con un ruolo quindi attivo da parte dei cittadini, a partire da Senior Italia Federanziani, che sta effettuando questo prezioso lavoro di raccolta dati attraverso le attività promosse sul territorio, le campagne di screening all'interno dei centri anziani, gli eventi e i congressi, nonché attraverso gli studi medici Senior Care, che sta aprendo su tutto il territorio nazionale. Dati che possono rappresentare un grande arricchimento per il lavoro delle società scientifiche, visto che rivelano spesso una maggiore vastità dei fenomeni e delle patologie croniche degli anziani rispetto a quanto noto dalle società scientifiche stesse, e questo per via della possibilità di accedere ad un bacino più ampio di utenti che solitamente non vengono monitorati a 360 gradi. A conclusione dei lavori è stato presentato l'osservatorio epidemiologico Real Life. A decretarne la nascita sono insieme Senior Italia Federanziani e le società scientifiche Partner, con l'obiettivo di supportare attraverso l'approccio Real Life il Ministero della Salute e le Regioni, fornendo dati correnti sulla salute dei cittadini, al fine di essere a fianco delle istituzioni per una corretta programmazione in tema di prevenzione. L'evento, infine, è stato anche l'occasione per la presentazione del nuovo Comitato Strategico di Senior Italia Federanziani, l'organismo deputato a delineare la strategia scientifica della federazione, gli obiettivi e le alleanze.